Questo è il volume 4 del Gioco delle Ombre in cui riporto il memoriale di Marco Aurelio Felix, questo testimone che non avrebbe voluto rivelare la sua identità e che sarebbe stato il deposito di alcune verità sulla morte di Mussolini riferite dal nonno e dal bisnonno. Ecco, ma uno spettatore che volesse comprare questo libro o tutti i due volumi, che deve fare? Li trova sul sito della casa editrice www.sinclair.it oppure www.ilgiocodeleombre.com ripeto www.ilgiocodeleombre.com tranquillamente può fare la richiesta, vedere di che cosa si tratta, dell'opera monumentale, acquistare i sei volumi. Tu alla data di fine novembre 2023, quanti volumi hai pubblicato in tutto o con che cadenza? Ho pubblicato una decina, forse una decina di volumi, ma considera che questa ricerca è durata 25 anni, quindi ne ho pubblicati 96, no 98, 99, questo poi ne ho pubblicato un altro nel 2015 su Casa Savoia, che sarebbe l'archivio segreto di Casa Savoia, l'archivio segreto L'Umberto II e il mistero dell'archivio Savoia scomparso per il Novecento e la Seconda Guerra Mondiale. Questo è stato pubblicato nel 2015 e parla delle lettere, riferendosi a Umberto II che muore il 18 marzo 1983, è un'indagine storico-politica che punta il microscopio investigativo sui carteggi privati di Vittorio Emanuele III, con particolare riferimento alla lettera o alle lettere, perché sarebbe meglio usare il plurale visto che sarebbero state almeno tre, che gli avrebbe inviato il Presidente della Repubblica Francese Albert Lebrun nel 1940. Lettera o lettere nelle quali Albert Lebrun sollecitava paradossalmente l'intervento dell'Italia contro il governo di Parigi nella Seconda Guerra Mondiale, perso perché la Francia alla fine di maggio del 1940 aveva già perso la guerra, era stata occupata dalla Germania. Lebrun forse credeva che la presenza dell'Italia al tavolo delle trattative avrebbe consentito ai francesi delle migliori condizioni di pace, quindi il ruolo dell'Italia sarebbe stato quello di mitigare. Ecco, questo libro, poi ne parliamo dei contenuti, quanto l'hai pubblicato? Nel 2015, nel 2016 scusa. Questo era il penultimo. Poi ne avevo pubblicato un altro nel 2015, che è, eccolo qui, Deutsche Antzertische Expedition riguarda praticamente la spedizione tedesca in Antartide nel 1938, con tutta la spiegazione di quella che era stata la rete espionistica tedesca in Sud America e con i progetti di collaborazione a guerra finita tra reti naziste sopravvissute alla guerra con i progetti poi anche tecnologici che poi arrivarono fino alla costituzione della NASA, della National Energy Space Administration, con la figura di Werner von Braun, che poi viene, c'è il progetto Public, l'assoldamento e il reclutamento dei grandi scienziati tedeschi nelle organizzazioni americane. Qui la ricerca è riferita alla spedizione tedesca nel 1938-39 in Antartide. Ma questo è un argomento molto particolare che poi magari avremo modo di scandagliare. Ecco, andiamo al, noi ora stiamo leggendo il memoriale che ti ha inviato questo anonimo personaggio che sarebbe il pronipote dell'agente Aquila. Ecco, ma ho una curiosità, come sei riuscito a, come è nato questo ponte? E mi ha contattato lui tramite un comune amico alcuni anni fa, il quale mi aveva detto che questo soggetto, che non ha voluto mai rivelare la sua fonte per pericoli di vita, avendo avuto tra l'altro il nonno e il padre che sarebbero stati oggetto di gravi attentati proprio perché facenti parte dei servizi, e quindi mi ha detto che aveva delle rivelazioni fatte l'idea al bisnonno, che faceva parte delle reti segrete dei servizi post 1945, era già parte del SIM precedentemente, ma poi dopo il 25 luglio, questo, stando a quello che riferisce questa fonte misteriosa, il bisnonno avrebbe fatto parte dei, diciamo, dei commando dei servizi della sezione Felix, dei servizi segreti della Repubblica Sociale italiana, che avrebbero cercato di salvare la vita Mussolini e poi avrebbero pianificato operazioni segrete, a guerra finita, su coloro che ritenevano responsabili della debacca italiana. Diciamo hanno praticato la vendita. Esatto. Ecco, noi abbiamo lasciato questa narrazione al punto in cui questo commando di spie arriva a Londra, si infiltra nell'M6, riesce a individuare il nome dell'agente inglese che è stato presente, che ha diretto le operazioni sulla morte, sull'uccisione proprio fisica di Mussolini e che stanno rientrando da Londra con una rotta aerea che è una specie di zigozzato. Sì. Ecco, vediamo dal capoverso del racconto. Il rientro della squadra segue la rotta per la Spagna e successivamente dalla Francia per poter tornare in Svizzera. Il tutto, ovviamente, però venivano da Londra. Avevano studiato in quel 46 le mosse per poter vendicare Mussolini, recandosi a Londra. Passano un paio di mesi, l'Aquila, che poi è il bisnonno, da solo scese a Roma per incontrarsi con Pompeo Aloisi, il suo massimo collaboratore diplomatico, che non poteva più muoversi dalla capitale per la sua età e per problemi di salute. Era il 28 aprile 1947. In questa data partì il regolamento di conti. Lo definisce così. Aloisi e il mio bisnonno misero appunto quello che sarebbe successo negli anni futuri. Il primo conto da saldare era con Vittorio Emanuele III di Savoia. Non gli restava molto da vivere al re, ma come mi disse mio nonno, riferendosi alle parole del padre, quindi del suo bisnonno, morirà per mano italiana e lo dovrà capire un attimo prima di andarsene da questo mondo. Testuali parole che io riporto. Giorno 28 aprile 1947 si decretò la morte di un uomo che ha contribuito ad affossare l'Italia. La mia chiosa col 25 all'oglio del 43. Col golpe di palazzo, sabbaudo badogliano. Inoltre i medici personali dissero che morì di congestione polmonare degenerata in trombosi. Nessuno ha mai chiesto un'autopsia. Aloisi potesse sapere solo della riuscita operazione contro il re, ma purtroppo venne a mancare l'anno dopo, nel 1949. Ma lasciò il compito di portare a termine, per quanto possibile, la giustizia al mio bisnonno, con altre operazioni. Inoltre il militare Intelligence 6 si era appena formato, quindi c'erano di continuo facce nuove e i sistemi di sicurezza erano primitivi. Prima di parlare della morte di Wilkinson. La stessa sorte sarebbe toccata a Badoglio, morto nel 1956 ufficialmente per un attacco di asma cardiaco. Ha togliati nel 1964 mentre era a Ialta e tanti altri che avrebbero tradito l'Italia. La stessa sorte, quindi. Non si poteva arrivare a Mauggeri, che era il maresciallo, l'ammiraglio Mauggeri, perché protetto dall'OS e dalla CIA. Aveva tradito, facendo, diciamo, come descrisse bene Antonio Trizzino nel libro Navi e Poltrone, il processo Navi e Poltrone. Una nota. La nave Giulio Cesare, simbolo della flotta italiana, ceduta all'URSS per riparazione di guerra e soprannominata Novoroschis. Sarebbe saltata in aria per mano della decima flottiglia MAS ed il piano fu messo in atto da Junio Valerio Borghese. Il mio bisnonno gli fece recapitare il piano stilato da Oluisi. Oluisi in persona ha saputo già nel 1948 che la nave sarebbe stata ceduta ai russi. Con il messaggio la faccia saltare in aria Pompeo Oluisi. Purtroppo non poteva assistere neppure a questo piano ben riuscito, perché morì prima. La morte di Wilkinson. Per svariati motivi, l'operazione riguardante Wilkinson non si poteva attuare prima del giugno del 1952. Quindi passano sette anni dalla morte di Mussolini, 1945, e 1952 per vendicare il duce. Stando a questo resoconto, negli anni che passarono dal colpo di Londra, l'Aquila monitorava regolarmente la situazione della capitale londinese e del soggetto da colpire. Sicuramente, sicuro del fatto che passati sette anni dalla fine della guerra e dalla morte del duce, nessuno lo cercava e commise. Quindi il Wilkinson. Un errore fatale. Non cambiò casa. Il 10 giugno del 1952 l'Aquila partì per quell'ultima missione che lo avrebbe coinvolto direttamente sul campo. Portò con sé la vecchia squadra. Purtroppo due componenti non furono presenti. Uno morì nel 50 per un incidente di montagna e l'altro era malato in quelle date. Il team era formato solo da sette persone, ma più che sufficienti. Per ben quattro giorni si monitorò la casa di Wilkinson, David Derry Wilkinson. Non era un tipo abitudinario, come si aspettavano da un agente operativo ben addestrato, ma il mio bisnonno colse l'occasione la sera del 16 giugno 1952. Dispose i suoi sei uomini in un perimetro di sicurezza intorno alla casa, in modo da coprire tutta la zona. Entrò a casa sua e si sistemò nell'ombra, caricando la sua berretta M34 modificata con un silenziatore. Appoggiò sulla scriveria di Wilkinson una capsula di cianuro ed un bicchiere di whisky Delmore ed aspettò pazientemente che lui tornasse a casa. Rincasò per le 21.30 Wilkinson, posò la valigia, il cappotto, il cappello e andò nello studio. Lì trovò il mio bisnonno con la pistola puntata verso di lui. La conversazione fu breve, gli chiese chi fosse e il mio bisnonno rispose semplicemente Felix. Wilkinson capì e disse sono passati sette anni, siamo alleati, ho solo svolto il mio compito. Alla quale affermazione l'aquila rispose lo so per questo ti concedo o un colpo o una capsula. Punto interrogativo ovviamente. Wilkinson prese il whisky, lo beve e subito dopo assunse la capsula di cianuro. Il mio bisnonno adagiò il corpo sulla sedia della scrivania e lasciò un messaggio per l'ex special operation executive. Una rosa rossa spezzata, simbolo dell'Inghilterra. Una spiga di grano, simbolo di Mussolini che lavorava la terra, una spilla della decima flottiglia mass. Ed un foglio con il disegno di una fenice. Il tutto durò una ventina di minuti. Uscito dalla casa di Wilkinson, la squadra si radunò e si diressero a prendere la lama che li avrebbe portati in Francia e da lì in Svizzera. Questa è stata l'ultima operazione che l'aquila ha realizzato sul campo ed attivamente. Per il resto, presi il posto di Aloisi, non voleva più rientrare nei servizi segreti o servire una nazione schiava. L'Italia. Ogni anno tra il 26 e il 29 aprile con la famiglia si recavano a predappio e ebbe molte discussioni con Rachele Mussolini ma non si seppe mai cosa si dicevano in quegli incontri. Si dedicò alla famiglia aiutando solo chi riteneva degno del suo aiuto e voluto morire restando nell'ombra e nell'anonimato. Conclusione. Qui forse per rendere queste pagine un po' più credibili capisco che senza il supporto di prove concrete, cioè documenti, foto o altro, sia abbastanza ovvio non poter ritenere queste informazioni attendibili solo sulla mia parola. Ma come ho già specificato più volte all'amico Baldo Croce, a me non interessa essere creduto, non interessa far sapere la storia della mia famiglia e non cerco fama o altro. Come erede di una famiglia che ha combattuto per diverse generazioni e ha pagato anche con perdite affettive, ho il preciso compito e dovere di salguaguardare non solo me e la mia famiglia ma anche gli eredi di chi ha combattuto nella FELIX e nella sezione X6 della decima flottiglia MAS. La realtà è ben più complessa di quello che si può immaginare e si pensa. Che ormai sono passati 80 anni dei fatti a chi vuoi che interessi. Sottolino il fatto che come ci sono gli eredi della FELIX ci sono gli eredi di altre organizzazioni e non si segue la logica comune o delle persone normali. Per capirci non esiste il ormai sono passati tanti anni. Ad ogni modo cercherò di allegare dei fatti o notizie che spero rendano queste pagine un po' più credibili. Lo storico Renzo De Felice che difficilmente si pronunciava con superficialità in una intervista al Corriere della Sera del 12 novembre 1995 disse La documentazione in mio possesso portò tutto ad una conclusione. Benito Mussolini fu ucciso da un gruppo di partigiani milanesi su sollecitazione dei servizi segreti inglesi. C'era un interesse a far sì che il capo del fascismo non arrivasse mai ad un processo. Ci fu un suggerimento inglese fatelo fuori mentre le clausole dell'armistitione stabilivano la consegna. Per gli inglesi era molto meglio se Mussolini fosse morto. Recentemente sulla stampa inglese, volutamente ignorata da storici, definiamoli in questo modo italiani, esce la notizia sull'Independent con il titolo Churchill Ordered Killing of Mussolini. Inoltre se le mie parole non dovessero essere credute faccio presente che di recente ammissione da parte dei britannici dopo più di 70 anni delle missioni dell'Agenza segreto Dick Malaby che sono state riprese di recente nel sito internet degli attuali servizi segreti italiani, cioè il sito sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. L'articolo si può trovare, c'è tutta la locazione archivistica. Da notare questo pezzettino dell'articolo che riporto sotto. Viste le circostanze dell'operazione di Malaby, va considerato essenziale per motivi di sicurezza avere una storia di copertura da far circolare nell'ambiente dello Special Operation Executive. Suggerisci di inventare una storia con Malaby, basata semplicemente sulla sua diretta liberazione in cambio di prigionieri tedeschi nelle nostre mani. Come ripeteva mio nonno, avere in mano documenti ufficiali non significa che quella storia sia vera. Il mondo dei servizi segreti o di sicurezza è un mondo fatto di ombre, segretezza, silenzi e negazioni. Tanti fascicoli di agenti dello Special Operation Executive sono tuttora sotto segretezza e verranno rilasciati non prima del 2024 o in altri casi del 2040. Un esempio può essere trovato qui in Discovery National Archive, eccetera, eccetera. Qua puoi fare delle referenze dagli archivi nazionali di Q Garden e come si potrà leggere alcuni nomi non sono stati rimossi essendo stati tagliati dalle pagine in un certo modo del passato. Poi fa, ripeto, quest'altra serie di asserzioni. Vediamo se... E qui finisce sostanzialmente. Grazie a tutti.